E poi lei sa meglio di me, probabilmente ha studiato anche lei così, mi sembra, eh, no? Sì, certo? Esa servizio che prevede, sir, usate le sceglie? Esa servizio che prevede, usate le sceglie? Esno. Lo que faccio tutti i giorni nel mattrino perché come giusto, la mente, da una giusta spessizia, ha alcune le relazioni subiettive. Il comunicato in modo più effettivo con un pennellino e un bellissimo bloc di paper. Il è sempre drawing, 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 drawing. È la forma che pensi. È la forma che argusate le punti. Puoi vedere che i bambini devono forma. Il primo anno è stato scoperto per conto. To challenge the idea of presentation 25 years ago, I was a student and I don't think the current mode of presentation would allow me to explore space in the way I can. It was really before computing was available to all of us. And the other thing was the idea of the projection, che è stato un'importante componente molto importante. Il progetto di un drawing si è stato un'idea di deformazione, distorsione. Con un progetto, ti permette di vedere il bambino in una certa forma. Quindi ogni volta che si guarda il progetto, si guarda completamente diverso. E questo è stato un processo di design. L'architectura non significa necessariamente che sia la forma finala di un bambino. Un drawing, per me, è un concetto di architettura. Un building è un concetto di architettura. Un fotografo di un drawing, o un fotografo di un architettura, è un concetto di architettura. I ricordi Dr. Iserman come in Berlin e vedere questi due pezzi in questo great hall. Sono 50 foot high. E mi diceva che non è un architettura perché non si può essere in them. e ho guardato a lui e ho detto che non si può essere in them. In altre parole, non si è in posizione di essere in them perché non si capisce in them. io si capisce in acqua. In alto parla di un argitettura. Escolta nell'indicazione di farlo con un certo di un'unica. IlAKH guy che donnava con un'una di un'unica. Il è un'unica HISPRE che si capisce in profondità di un'unica. È un'unica da, Dio a un'una di un'unica e un'unica. Il nostro corso di un'unica del Unidos è un'unica. Il sostiene di un'unica. La un'unica è un'unica. E un'unica da un'unica. E un'unicaセlee, Grazie a tutti